E' un fine settimana di studio e confronto per Michele Marcolini ed Enzo De Vito. Dopo aver fatto tappa alla struttura di Ariano Irpino, che ospiterà il ritiro, tecnico e direttore sportivo stanno spulciando la rosa, ma anche valutando decine di trattative messe in piedi in quest'ultimo mese. Come è accaduto ad Alessandria e confermato nel corso della conferenza stampa di ieri, Marcolini gradirebbe inserire qualche elemento di sua fiducia all'interno dello spogliatoio. Lo scorso gennaio in Piemonte chiese ed ottenne l'acquisto del centrocampista centrale Emanuele Gatto, 23 anni, prelevato dal Sant'Arcangelo, e dell'esterno Tommaso Bellazzini, alla destra di 30 anni, con un passato al Cittadella. Nomi annotati pure da Enzo De Vito, che nel frattempo deve sfogliare la Margherita per la scelta dei portieri. In Pol, svanito Facchin, soprattutto per contrasti con il suo agente dopo che è sfumato Fazio, c'è Simone Aresti dell'Olbia, che gode del gradimento pure di Marcolini. Ma l'altro over, che Enzo De Vito ha descritto come giovane e con esperienza in B, uscirà in una rosa di nomi che va dagli interisti di Gennaro Ibardi, in prestito a Spezze e Frosinone, al bolognese Sandurro. Con i nero-azzurri, infatti, c'è in piedi il conto per la valorizzazione di Radu da saldare. Per Gigi Castaldo, invece, si aspetterà che l'attaccante torni dalle vacanze e si siede al tavolo con Walter Taccone. Stessa cosa, prima di partire per il ritiro, dovranno fare pure Angelo D'Angelo e Lorenzo Laverone, che hanno il contratto in scadenza. Per Matteo Ardemagni, dopo che il presidente Taccone ha confermato pubblicamente Muculu e si sarà risolta la grana Castaldo, si attenderà il mese di agosto per provare a fare cassa e piazzarlo altrove. Solo allora, e nel caso di partenza, si potrà pensare di aprire le porte ad un altro attaccante centrale, come poteva essere Vrioni, che nel frattempo, non potendo aspettare, si accaserà altrove.